Ciao a tutti, qui Luca Raldieri del negozio TuttoSpinning di Pusiano e come ogni lunedì siamo qui per presentarvi il prodotto della settimana da TuttoSpinning. Come avrete certamente capito, oggi parliamo di un black flag e in particolare di un'esca siliconica che è probabilmente uno dei veri best seller dell'azienda Made in Italy. E sto parlando del Big Butt. In particolare oggi volevo presentarvi il Big Butt S, quello che per ora è la misura più grande dei Big Butt disponibili. Lungo 3.95 pollici e un'esca siliconica, perfetta per diversi utilizzi. Può essere innescato a Texas o a Waki, spiombato o con delle piccole piombature. La sua mescola è molto resistente, per cui può essere utilizzato sia in acqua aperta oppure lanciato o addirittura schippato all'interno di cover anche molto intricata. La caratteristica principale del Big Butt è quella di non essere un semplice stick worm dritto. Ma quella, come dice il nome stesso, di avere una coda maggiorata, appunto un Big Butt. Questo conferisce a un'esca un muoto decisamente accentuato, soprattutto se utilizzato in escata su teste piombate, come ad esempio teste da Ned Rig. Il Big Butt, che qui in mano mia vedete in colorazione Baby Bass, è disponibile in tantissime colorazioni. Ed è l'esca perfetta per gli amanti sia del Bass Fishing, ma anche della pesca alla trota. Sia in laghetto, dove spesso in inverno viene usato a Waki, sia in torrente, dove spesso viene innescato su teste piombate per essere lanciato e fatto girare in corrente. Anche se, molte volte, gli amanti di questo tipo di pesca prediligono le misure più piccole, XS e Micro. Di cui parleremo un altro lunedì. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se avete domande, richieste o dubbi, non esitate a scrivere nei commenti. In descrizione troverete il link dove acquistare il Big Butt S e gli altri fratellini minori del Big Butt. E inoltre, come ogni settimana, troverete il link per iscrivervi al newsletter. Vi ricordo che riceverete subito un buono sconto del valore di 10€ e inoltre, tutti i mesi riceverete le offerte dedicate esclusivamente agli iscritti al newsletter.